Ciao a tutti, sono Giuseppe Sileo in Arte Sileo, ho 28 anni, sono di Satriano di Lucania, un paesino della provincia di Potenza. Nella lontana Lucania Nera abita un particolare essere vivente, famoso per le sue eccezionali capacità di linguaggio. Qui a Premio di Unida porterò un mio brano che si chiama più del telegiornale ed parla delle comari del paese o delle comari di città, come volete voi, e ho conosciuto il Premio di Unida tramite internet e invito gli amici. Conosco una, sta affacciata alla finestra di casa sua, per poterti guardare, nella sua vita non ha altro da fare. Ti squadra, ti osserva, commenta i tuoi vestiti, nascosta, ti fissa, appunta le tue azioni per poterne parlare. Allora... Allora... Stai facendo la finestra di casa sua... Allora... 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 Grazie.